Più sicurezza e relax con Active Drive Assist. L'Active Drive Assist è il nostro primo sistema di assistenza in grado di consentire una guida parzialmente autonoma, aiutando il conducente a mantenere il veicolo nella traiettoria di marcia e a rispettare una distanza di sicurezza dal veicolo che precede. L'Active Drive Assist rappresenta un'estensione funzionale del sistema di mantenimento della distanza, in quanto, oltre alla regolazione automatica della distanza con funzione stop and go, esso ora supporta attivamente il conducente anche nel mantenimento della traiettoria di marcia. A tale scopo viene utilizzata la tecnologia del sistema radar e di telecamere dell'Active Drive Assist 5, in abbinamento al servosterzo elettrico e al sistema antisbandamento. Il sistema è disponibile automaticamente in standby all'avviamento del motore. Se l'Active Drive Assist è stato attivato impostando la velocità e viene rilevato un veicolo che precede, il sistema frena automaticamente, se necessario, per poi accelerare di nuovo non appena possibile e in modo automatico, fino alla velocità impostata. La distanza dal veicolo che precede è regolabile in funzione della velocità e a diversi stadi. In ogni caso, la distanza di sicurezza minima prescritta dalla legge viene sempre rispettata. L'Active Drive Assist è operativo nell'intera gamma di velocità e regola automaticamente anche le fasi di partenza e arresto in coda. Se il tempo di arresto nella marcia Stop & Go è inferiore a due secondi, il veicolo riparte in modo autonomo senza che il conducente debba premere il pedale dell'acceleratore. In caso di sosta prolungata, per avviare il veicolo basta premere brevemente il pedale dell'acceleratore o il tasto sul volante. Inoltre, i sensori del sistema radar e di telecamere rilevano con precisione l'ambiente circostante, elaborando le informazioni sulle linee di demarcazione della carreggiata, sulla larghezza della corsia di marcia e sulla posizione del veicolo. Se tutte le condizioni del sistema risultano soddisfatte, l'Active Drive Assist si attiva e provvede a mantenere l'autocarro in traiettoria. Nella strumentazione appare il simbolo di un volante blu e anche le linee di demarcazione della carreggiata diventano blu. Adesso, il conducente non deve più guidare attivamente, ma può intervenire in qualsiasi momento per riprendere il controllo del veicolo. Per questo deve sempre mantenere entrambe le mani sul volante, altrimenti il sistema emette un segnale ottico e acustico. Se il conducente non reagisce, l'Active Drive Assist viene disattivato. Il mantenimento attivo della traiettoria di marcia si può attivare o disattivare in qualsiasi momento attraverso il multi-touch display. Il servosterzo elettrico rende le manovre ancora più agevoli e agili, alleviando al meglio le fatiche del conducente. L'Active Drive Assist Mercedes-Benz Trucks you can trust L'Active Drive Assist 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 L'Active Drive Assist